Nessuna polemica, siamo complementari alle altre associazioni e non vogliamo ostacolare nessuno. Con queste dichiarazioni il presidente della Proloco San Benedettese, Marco Calvaresi, risponde alle parole del sindaco Gaspari. Ieri il primo cittadino, parlando dell'istituzione del Parco Marino, aveva infatti lanciato qualche frecciata non proprio amichevole all'associazione turistica nata lo scorso novembre. Le parole di Calvaresi gettono acqua sul fuoco ed è lo stesso presidente ad annunciare un incontro col sindaco. Pensiamo alla prossima settimana di rivederci col sindaco Gaspari per definire i programmi, per farvi vedere le nostre proposte, soprattutto per, una volta per tutto, per confrontarci sui temi più assillanti e secondo me anche più urgenti per questa città. Secondo me, come diceva benissimo il Vesco qualche giorno fa nella relazione della serie con l'industria, è importante cambiare la mentalità e soprattutto vedere il bene della collettività, perché pensiamo che in questo momento è più importante puntare sulla collettività e non sull'interesse di pochi. La Prologo comunque continua la sua attività di riscoperta delle tradizioni storiche e popolari di San Benedetto. In collaborazione con il Comitato di Quartiere Santa Lucia, verrà ripristinata dopo oltre vent'anni la tradizionale festa nel piazzale della Chiesa. I rappresentanti del quartiere, Sandro Cameli e Giuseppe Bianconi, hanno recepito il messaggio dell'Associazione di Calvaresi, riportando così in vita un festeggiamento ormai abbandonato. Il 23 e il 24 marzo, giorno di Pasqua e Pasquetta, il piazzale antistante alla Chiesa di Santa Lucia sarà quindi teatro della tradizionale festa. Una sera, come si suol dire, sedendo al bar, tra amici, dice perché non riportare in auge quello che era la festa di Santa Lucia, la famosa Iema Passa all'Acqua, cosiddetto proprio in dialetto sammenettese. La tradizione infatti racconta che nel giorno della celebrazione pasquale, le famiglie, marinare e contadine si incontravano per un momento conviviale. Così sarà anche quest'anno quindi, con momenti dedicati all'intrattenimento musicale, a spettacoli comici e ovviamente al momento religioso, con la celebrazione della Santa Messa. Faremo rivivere ai giovani d'oggi che popolano il nostro quartiere, hanno detto Cameli e Bianconi, le tradizioni che i nostri padri ci hanno tramandato.